Ecco beccati questa, dito stronzo. No, mi hanno ucciso ragazzi Ciao a tutti i gamers e bentornati sul canale di Juke Next Gen Ragazzi oggi siamo qui arrivati su Call of Duty Nuketown Cioè hanno riprodotto la mappa di Nuketown ragazzi in GTA 5 Io non ho mai fatto questo deathmatch, non lo sapevo neanche quando ho visto il titolo Sono rimasto ragazzi sballordito perché per me è una grandissima figata questa cosa qui Quindi subito ho detto che devo per forza giocare questo deathmatch E quindi ragazzi ecco velo qui che ve lo porto Ci scopriamo insieme qua ma è questo deathmatch eccoci qui ragazzoate che figata con di Nuketown Voglio vedere anche il tizio come ha riprodotto questa mappa Vediamo un po Guardate subito vedete qui come sparano facciate cattivi spariamo noi allora No mi hanno ucciso tutti bastanti ragazzi subito Dobbiamo cercare di andare a fare male kill Guarda questo Muori va Fuori in attima qui ragazzi Qua è bello perché vedo che ci sono vari posti per ripararsi Ecco beccati questa Mi hanno ucciso ragazzi però Ho fatto due kill Il primo sta a tre Quindi Posso lottare Eccolo qua No mi hanno tolto la kill Eccolo qua No mi hanno tolto la kill Mi sa che in tutti i contro tutti ragazzi c'è poco di deathmatch a squadra Anche se qua diceva deathmatch a squadra ma in realtà mi sa che si ragazzi che erano tutti i contro tutti C'è qualcuno che lancia missi di ragazzi sta facendo il devasto Con il fatto che non ho il personaggio e ben simbato e guardate ragazzi guardate Appena di nato mi hanno fatto sotto saltare all'aria allora spariamo questo qui Muori da stronzo No 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 maledetti bastardi ragazzi Fa' attenzione qui guarda questo bastardo Sta testa da progione qua Ah no progione vabbè Con la guardate quello Ho appena visto ragazzi Quello qua E muori va panculo o qua mori muori no e muori non è dei più forti ovviamente la resistenza è quella che è sto in mezzo alla merda praticamente ragazzi sto veramente in mezzo alla merda no era lì dietro ha spawnato dietro di me no cioè i dati dietro non escono uccidelo muori fuori uno stava sopra il bastardo sta sparando grazie guardate quel bastardo ecco qua muori vaffanculo no mi hanno preso quello di comunque ragazzi ucciso con il camper la sopra c'è anche qui è buoni vaffanculo nuovo quello di con lanciarazzi da di sopra ragazzi continuo no che figata ragazzi tutta questa vita lì neanche il tempo di scendere ragazzi io l'ho già visto che stava sotto ma non pensavo già mirando invece è buoni vaffanculo ragazzi ma non muore a quanto cazzo ha di di video quello di cioè non riuscivo a ucciderlo muori va ma niente ragazzi non riesco proprio a fare il personaggio purtroppo è basso di livello quindi questi deathmatch quasi sempre va peggio quello qua ragazzi ma questo arrivato undicesimo ragazzi c'è il video poi c'è il link quando si è un passo dalla morte ragazzi per niente sono arrivato penso ultimo no ragazzi sono arrivato undicesimo su quattordici ragazzi come vedete 168 216 108 57 cioè ragazzi guardate io praticamente sono il livello il più basso solo quello dopo di mai 16 ragazzi adesso sono tutti di livello più alto quindi undicesimo apposizione non è malvagia ok ragazzi se questo deathmatch è spiato a quello di Newtown vi è piaciuto lasciate un bel mi piace per sostenere questa serie di deathmatch che mi sto portando ragazzi se volete commentate se volete dirmi se che voi l'avete fatto se a voi vi è piaciuto o non vi è piaciuto insomma qualsiasi cosa se avete fatto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale così altra cosa mi ci condiviete questo non si viva sotto come sempre in descrizione per tutti i miei social network facebook instagram twitter snapchat e telegram noi ci vediamo al prossimo video qui dal giorno dell'83 è tutto ciao gamers iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale